L'incontro sulla drammaturgia della danza che abbiamo organizzato in collaborazione Anghiari Dance Hub e il Kilowatt Festival è il momento di partenza per tutta un'attività sulla drammaturgia della danza che intendiamo sviluppare a partire dall'anno prossimo Come Anghiari Dance Hub nei nostri seminari abbiamo sempre ospitato uno dedicato proprio alla drammaturgia della danza e vogliamo poter sviluppare questa attività anche nei confronti di aspiranti dramaturg Questo è stato possibile proprio grazie alla collaborazione del Festival Kilowatt di cui Luca Ricci è direttore artistico insieme a Lucia Franchi e Luca è anche uno dei soci fondatori di Anghiari Dance Hub progetto che è iniziato nel 2015 praticamente dal nulla ma partendo dall'esperienza di tutti i fondatori della cooperativa I relatori che abbiamo invitato ci aiuteranno in questo percorso infatti abbiamo con noi Alessandro Pontremoli, Roberta Nicolai, Stefano Tomassini, Gaia Clotilde Cernetic, Fabio H e due artisti coreografi che applicano la drammaturgia autonomamente Cristina Cristal Rizzo e Salvo Lombardo Tra l'altro Salvo Lombardo presenterà anche uno dei suoi spettacoli Outdoor Dance Floor che chiuderà l'edizione del Festival e questa presentazione è sempre in collaborazione tra Anghiari Dance Hub e Kilowatt Festival quindi diciamo che da questo momento potremo partire per aumentare, alimentare e sviluppare le attività di drammaturgia della danza a favore degli artisti ma soprattutto del pubblico e dei cittadini